Benvenuti nel mondo degli orologi Philip Stein. Philip Stein è un marchio di orologi di lusso fondato da Will e Rina Stein. Il marchio è noto per la sua tecnologia Natural Frequency Technology NFT, che afferma di aiutare a migliorare il benessere e la qualità della vita. La tecnologia NFT si basa sull'idea che il nostro corpo sia influenzato dalle onde naturali presenti nell'ambiente. Gli orologi Philip Stein sono dotati di un piccolo dispositivo chiamato Natural Frequency Discane FD, che emette onde naturali simili a quelle presenti nella natura. Queste onde, secondo il marchio, aiutano a ristabilire l'equilibrio naturale del nostro corpo, migliorando la qualità del sonno e riducendo lo stress. Gli orologi Philip Stein sono realizzati in Svizzera e vantano un design elegante e raffinato che li rende unici nel loro genere. Gli orologi Philip Stein sono diventati molto popolari tra le celebrità, che li indossano regolarmente sul red carpet. Tra i fan del marchio ci sono personalità del mondo dello spettacolo come Oprah Winfrey e Madonna. Inoltre, il marchio ha recentemente ampliato la sua gamma di prodotti, introducendo una linea di braccialetti e collane dotati della tecnologia NFT, che possono essere indossati anche senza l'orologio. Questo rende gli accessori Philip Stein adatti a chiunque voglia migliorare il proprio benessere e ridurre lo stress, senza rinunciare allo stile e all'eleganza. Gli orologi Philip Stein sono disponibili in diverse collezioni, che si distinguono per il design e per le caratteristiche tecniche. Ad esempio, la collezione Segnature presenta l'iconico quadrante ovale in madreperla, mentre la collezione Active è invece pensata per gli sportivi, con orologi resistenti all'acqua e dotati di cronometro. Ma non solo, il marchio offre anche la possibilità di personalizzare il proprio orologio, scegliendo tra diverse opzioni di cinturino e di quadrante. In questo modo, ogni cliente può creare un orologio unico e personalizzato, che rispecchi il proprio stile e la propria personalità.